Amici di Schellenbruele Ma ciao amici e amici di Schellenbruele, eccoci qua, che meraviglia essere qua in una nuova puntata con voi, naturalmente sempre solo di giovedì Ah, vediamo, chiedi voi, indovina quale mai personaggio interpretarò in questa puntata? Chi sono? Qualche indizio? No, dai ve lo dico subito Ah, sono una serva! Sì! Ma la serva di un animale meraviglioso Sono la serva degli elefanti, uh! E io, che dirvi, io non posso proprio immaginare un mondo senza gli elefanti E allora io mi aggiro nella giungla sempre con il mio meraviglioso, uh, grembiule di gomma E questa t-shirt, questa maglietta di MyWhiteElephantShop.com Che è uno store digitale che destina il 10% dei suoi guadagni alla African Wildlife Foundation Yeah! Uh, con il rombo del mio tamburo nella foresta Ah, gli elefanti ascoltano il richiamo della loro serva Musica Il mondo è più importante Il mondo è più bello con gli elefanti Il mondo è migliore se Tamara si aggira nella giungla Se vi capita di passare per la giungla Cercatemi, anche perché tutti gli elefanti della foresta mi conoscono Poi è facile riconoscermi perché indosso sempre lui il mio bellissimo e meraviglioso grembiule di gomma E poi, ragazzi, lei, questa meravigliosa stupenda maglietta di MyWhiteElephantShop.com Lo store digitale di abbigliamento e accessori che è dedicato proprio loro agli elefanti E destina il 10% dei suoi guadagni alla African Wildlife Foundation Yeah! Hmph Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti